A perso il controllo della Renault Clio che stava guidando ed è finito contro un palo dell'illuminazione stradale sradicandolo. È accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 26 settembre a un cinquantenne di Cornier in corso indipendenza a Rivarolo Canavese. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Vrea, i carabinieri e la croce bianca del Canavese. L'uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato all'ospedale di Cornier. Fortunatamente, nonostante l'impatto sia stato alquanto violento, non è in pericolo di vita. Il traffico ha subito ralentamenti a causa del senso unico alternato necessario per poter permettere la messa in sicurezza e la rimozione della vettura, nonché la messa in sicurezza del palo a cura dei tecnici dell'azienda elettrica. Grazie a tutti.